allora signore e signori io non so come sono andata so solo che adesso mi stanno per fare un'intervista qui c'è un signore carino che mi accompagna Riccardo e appunto il fatto che mi fanno l'intervista già è una cosa fantastica vedremo come va a finire grazie grazie tanti vedi che